Ieri riunione con D'Alfonso per quantificare i danni del terremoto sul patrimonio comunale Terramano. Sì, ieri c'è stata una riunione con tutti i sindaci del territorio, appunto perché bisogna quantificare tutti i danni che ci sono avuti sul patrimonio comunale. E questo nell'arco di cinque giorni produrremo tutti questi conteggi alla regione Abruzzo. E chiaramente sono danni ingenti, soprattutto sul comune di Terramo, in quanto noi abbiamo avuto dei danni rilevanti su quasi tutte le strutture comunali, anche altre strutture ricollegabili appunto al nostro comune, tipo il Braga e altri sedi importanti. Polemica sulla nomina del responsabile dell'UTR, Marcello Dalberto. Beh, guardi, polemiche. Questa è una scelta, penso, su curriculum e sicuramente sarà stata scelta la persona giusta che abbia esperienza per affrontare un argomento così importante come la ricostruzione. Ce l'ha questa esperienza? Questa è la domanda che ci poniamo. Questa è un'attenzione che noi daremo, perché noi non possiamo sbagliare minimamente sulla ricostruzione. Quindi questa figura, che sarà una figura importante per gestire questo ufficio, sarà attenzionata da parte nostra in considerazione che le pratiche dovranno essere svolte eccellermente, in considerazione che partiamo già con un pochettino di ritardo rispetto agli altri comuni e quindi sicuramente non possiamo permetterci altri errori. Grazie.